Nel lago del Salto, in provincia di Rieti, nell'altra direzione abbiamo l'Abruzzo, se guardi laggiù, all'orizzonte quel profilo è il gruppo del Velino, da quest'altra parte ci spostiamo verso il lago del Turano, che andiamo alle spalle di questa montagna, che è il Monte Navegna, che divide i due laghi gemelli, io li chiamo del Salto e del Turano perché nascono nello stesso periodo, poi ti racconterò quando, siamo in una zona proprio di confine tra Forlazzi e Abruzzo, da qui vicino passa la superstrada che poi porta all'uscita di Valle del Salto, della 24, dalla 4 ora segue, poi verso l'Abruzzo, l'uscita dopo il Torno in Quarte, quindi le zone dove si va a sciare Campo Felice. Vi faccio vedere questa zona, secondo me stupenda, poco conosciuta, poco frequentata da un turismo che invece sta crescendo molto per quello naturalistico, escursionistico, partendo già dalla diga, da questo manufatto, da questa grande opera che risale agli anni dal 36 al 40, nasce come opera di sbarramento di un fiume, che era il fiume Salto, molto piccolo, che attraversava questa vallata, nell'intento degli ingegneri c'era appunto quello di creare uno sbarramento a muto e per evitare poi l'allagamento di Vieti, perché calcola che qui c'era, passavo al fiume Salto, dalla parte opposta al fiume Turano, che qua diventerà il lago di Turano, una stradita gemella questa, dall'altra parte di Vieti c'era il fiume C, il fiume Avelino, il fiume Nera, tutti e quattro confundivano sulla piana di Vieti, creando chiaramente l'inverno con tutti loro affluetti, ruscelli, impluvie, creando appunto un piano alluvionale. Se tu immagini che qui, dove adesso c'è tutto questo grande invaso, che tra le altre cose è il più grande bacino artificiale del Lazio, scordiamo un piccolo fiume di una piana molto produttiva, che rappresentava i beni primati per queste popolazioni, insieme alla pastorizia e all'allevamento. Nel momento in cui si decide di parare il fiume e creare questa diga, e conseguentemente di allagare questa piana, si va a stravolgere tutto un tessuto sociale che per secoli si era sviluppato su questo territorio.